Il titolo di questo webinar è le 4A per i contenuti di successo su LinkedIn. Perché mi trovo io qui, Alessandro Gini, oggi a parlarvi di questo. La maggior parte delle persone collegate in qualche modo mi conoscono, forse si sono iscritte al webinar anche perché già mi seguono. Per chi non mi conosce, tre informazioni sintetiche su di me. Vengo da un background nel campo delle vendite, del marketing, della comunicazione. Circa vent'anni, la mia partita IVA ha compiuto da poco 19 anni in particolare. Dal 2013 però mi occupo esclusivamente di LinkedIn con una società indipendente che si chiama Up for Business, che è anche il nome del nostro blog. Ad oggi il sito di informazioni su LinkedIn più letto in Italia per numero di pagine mese. Mi occupo della formazione anche in università, sempre sui temi dell'utilizzo di LinkedIn per lo sviluppo della propria carriera, ma anche per il marketing delle PMI, delle aziende internazionali, nell'Università di Milano, Bergamo, Padova e Pisa. E in questi anni ho collezionato dei numeri interessanti di occasioni, di confronto, di consulenza, di formazione all'interno delle aziende. Numeri che vedete qua. Queste sono le mie credenziali. Non ho la verità in tasca, come nessuno. Secondo me, chi lo dice, meglio dubitarne. Però mi sono fatto un po' di esperienza insieme al mio team. E grazie a questa esperienza, qual è la promessa che cerco di farvi questa sera? Cosa potreste aspettarvi da quello che vi racconterò? Mi piacerebbe partire in realtà da cosa non aspettarsi, così andiamo proprio dritti al sodo. Io non vi parlerò di tecniche miracolose, che se le fate due volte magicamente diventerete i nuovi guru di LinkedIn. Non è il mio approccio. Qualcuno ama quell'approccio. Io no. E credo che se siete qua e mi avete scelto per spendere quest'oretta, probabilmente non è nemmeno il vostro. Non vi parlerò di un sistema preconfezionato, che va bene per tutti, proprio fai A, B e C. Certo, c'è un metodo, ma non è un sistema preconfezionato. E non parleremo di facili scorciatoie. Mi spiace, ma ancora una volta non è questo quello di cui mi occupo. Più che altro sono qua per darvi la prospettiva di un metodo che potrete personalizzare sulla base dei vostri obiettivi, delle vostre attitudini, anche un po' della personalizzazione appunto, dell'unicità, di come ve lo volete vestire addosso. Vi vorrò dare una visione di insieme per comprendere dei meccanismi che sono cruciali su LinkedIn. Per qualcuno sarà anche un ripasso dei fondamentali, che non fa mai male avere sempre ben solidamente sott'occhio. E poi ci saranno, mi auguro, almeno per alcuni, delle idee nuove. Vi racconto queste cose perché per me questo recente è stato un periodo di studio e di test. Chi mi segue forse si è anche accorto che sto facendo un po' di test anche nelle pubblicazioni, ma è stato un momento anche di studio. E quando studio e in camera delle informazioni mi piace poi chiaramente raccontarle, darvi le quattro A. Qualcuno si è un po' incuriosito, qualcuno nei commenti, ai post di lancio ha parlato delle cinque A. Diceva c'è una quinta A ed è il tuo nome, Alessandro, visto che casualmente inizia per la A. Ma in realtà no, sono quattro quelle di cui voglio parlare e partono da un concetto, da un'esigenza o anche da un'emozione, se vogliamo, che voglio proporvi qua con un sondaggino che dovrebbe partire fra un secondo. E vi chiedo, vi siete mai sentiti frustrati nel pubblicare contenuti su LinkedIn o anche solo nel pensare di pubblicarli? Quindi se mi rispondete al sondaggio vedete che alla fine della votazione vi farò vedere qual è stata la risposta più frequente. Paola ricorda come il 4P del marketing, esatto, qualcuno anche l'ha ricordato, ma non osavo avere un riferimento così alto, era molto più basilare il mio. Vi faccio questa domanda, ma è una domanda un po' retorica. Perché in quasi tutti i corsi e le consulenze che faccio viene trattato il tema dei contenuti e sempre con un pochettino di sofferenza da parte dell'interlocutore? Perché spesso le persone si sentono un po' sfidate o frustrate, disorientate, spaesate nei confronti dei risultati che ottengono nella pubblicazione dei contenuti. E vi posso dire che è assolutamente normale, quindi benvenuti nel mondo reale, talvolta è così anche per me, ma appunto qualcosa è stato studiato e sappiamo un po' come affrontarli. Allora, hanno risposto la maggior parte di voi, per cui io terminerei e vi farei vedere il risultato. In effetti la maggior parte, spesso o almeno talvolta, e solo due hanno detto mai successo e dodici quasi mai. Allora poi nei commenti o anche privatamente se volete mi fa piacere sentire qual è la vostra esperienza. La magia avviene con i contenuti su LinkedIn, siamo qua a parlare di contenuti perché sono quelli che fanno la differenza. Quando si è attivi su LinkedIn con i contenuti, cioè pubblicando, commentando, partecipando alle conversazioni, accadono tante cose che a me piace chiamare magia talvolta perché hanno veramente un impatto notevole. Qui vi ho riportato alcuni degli elementi come la reputazione che si può costruire, la visibilità, i collegamenti per essere sempre in mostra, la costruzione di relazioni, l'accrescimento del network attraverso richieste in target e spesso ben motivate. Quindi c'è tanto in gioco, ma questo tanto in gioco non è così facile da far avvenire come nelle risposte che mi avete appena dato, avete nella maggior parte dei casi dimostrato. E quindi da qui le quattro A. La prima è l'argomento, tanto quali sono le quattro A l'avete già letto quando vi siete iscritti al webinar, no? Non è un segreto, non devo creare aspettativa da questo punto di vista. La prima A è quella dell'argomento perché è fondamentale ovviamente scegliere argomenti giusti, anzi diciamo così, se scegliamo quelli sbagliati è difficile essere ascoltati con interesse, questo è abbastanza banale, eppure quanto spesso vediamo su LinkedIn persone, sicuramente nessuno di voi, ma troviamo persone che in realtà scrivono delle cose che ci chiediamo, ma perché mai, no? Perché mai la scritta, perché mai dovrei leggerlo? Voi avete chiaro in mente quali sono i contenuti di cui dovreste parlare? E anche qua vi faccio un piccolo sondaggio al volo che ho preparato, e vediamo se volete anche in questo caso partecipare. La scelta degli argomenti di cui parlare è cruciale, forse adesso non la vedete più perché ci sono andato sopra con le slide, e quindi facciamo così, scusate, ecco adesso dovreste vederli. Bisogna sceglierlo a monte. La nuova modalità di teore di contenuti, un tema molto popolare di questi tempi, ne ho proprio parlato con un video e un articolo di recente su LinkedIn, ci aiuta a focalizzare, cristallizzarci su cinque argomenti. Attenzione, non ci aiuta a sceglierli, non c'è un tool che ci permette di sceglierli, ma perlomeno ci guida nell'identificarne cinque, che sono quelli che possiamo mettere in evidenza attraverso la modalità creatore di contenuti. Chiaramente quello che dobbiamo fare prima però di quello è arrivare a definire quali sono quelli giusti per noi, e qui voglio darvi qualche spunto di riflessione proprio in merito a questo. Provate a farvi queste domande. Come posso incontrare il mio interesse, la mia passione professionale con i bisogni del lettore? Questa è in qualche modo la chiave, l'incontro tra ciò che a me, ciò di cui sono preparato, ciò che mi interessa, perché creare contenuti per LinkedIn significa dedicare un extra tempo, quindi ci deve anche essere una leva un po' di passione che si deve sposare con il bisogno e l'interesse del mio interlocutore. E ora vediamo quattro o cinque domande da farsi per provare a trovare risposta a questo. Nel frattempo vediamo un po' i risultati. Per fortuna nessuno brancola completamente nel buio, perché se lavorate chiaramente sapete un po' di cosa dovreste parlare. Un quarto di voi ha le idee piuttosto chiare, mentre qualcuno ancora può avere bisogno di un supporto. E quindi eccoci qua con le domande da proporvi, che sono, eccole qua, che arrivano. Cosa ha bisogno di sapere, conoscere, ricordare per fare meglio il suo lavoro, il mio lettore ideale, il mio interlocutore, quella persona che se trovo su LinkedIn potrà aiutarmi a realizzare il mio obiettivo professionale. Che cosa ama leggere e commentare? Basta andare a sbirciarlo talvolta, lo possiamo vedere, ci rendiamo conto che argomenti quel genere di persona interessa. Che cosa oggi lo mette in difficoltà e quindi se propongo una soluzione potrebbe aiutarlo. Quali tipi di contenuti e argomenti possono creare una medesimazione, identificazione e quindi per empatia vorrà leggere e vorrà unirsi alla conversazione. Che cosa lo emoziona? Siamo su un social professionale ma siamo esseri umani e anche al lavoro ci portiamo le emozioni. Che non vuol dire che abbandoneremo l'aspetto professionale ma si può parlare di lavoro attraverso le emozioni. Che cosa vale il suo tempo? Quando voi fate un post, anche quando lo faccio io, noi chiediamo alle persone di dedicare dei secondi o dei minuti per leggere e magari per commentare. Che cosa vale il tempo di queste persone? Nelle risposte sincere, magari confrontate a queste domande, potrete trovare la via per la scelta degli argomenti. La scelta degli argomenti non è sempre sufficiente perché poi ogni argomento potrebbe essere approcciato anche in un modo diverso. Io nei miei corsi, Davide ha proprio citato, Davide è un partecipante delle scorse edizioni, anche in presenza addirittura siamo riusciti a vederci Davide, in mezzo tra un'ondata e l'altra, lavoro su questi quattro approcci. Uno stesso argomento può essere declinato in un modo educativo, informativo, di coinvolgimento o anche promozionale, l'ho messo in fondo non a caso. Non è questo il contesto per approfondire questi quattro approcci ma voglio farvi un po' ragionare su questo. Mi scelgo gli argomenti giusti per il mio interlocutore ideale ma li posso anche declinare in un modo ovviamente diverso, più o meno interessante. Cinque punti che potresti tenere a mente quindi per centrare la prima A, quella dell'argomento. Ricordate sempre che le persone vogliono imparare e tenersi aggiornate, questa è una chiave importante, per questo parlavo di contenuti educativi. Che le persone di solito non vogliono farsi vendere prodotti e servizi, poi devono probabilmente farlo e voi sarete anche la scelta giusta, ma non sono su LinkedIn per leggere la bacheca degli annunci. Le persone sono curiose, c'è un aspetto anche un po' morboso talvolta nella curiosità ma tenendola anche sana, comunque le persone vogliono un po' vedere dietro le quinte, amano celebrare i successi altrui, talvolta godere degli insuccessi ma di questo non vogliamo nemmeno pensarci e ogni tanto amano anche un po' la discussione, su LinkedIn poco ma quella leva c'è. Se parliamo di contenuti per il profilo quindi ricordate di mettere la vostra personalità, voi non siete l'ufficio stampa di qualcun altro. Se parliamo di azienda fate in modo di fare leva positivamente sulle persone dell'azienda. Questi cinque punti già possono dare una svolta alla prima A che è quella dell'argomento. La seconda A, l'algoritmo. L'algoritmo è quella forza oscura, l'ho definita qui, che ci aiuta o ci ostacola talvolta nel successo su LinkedIn perché è ciò che determina se e come e quanto i nostri post verranno letti oppure no. Anche qua una domandina per voi, un altro sondaggino al volo sull'algoritmo. Quindi quanto ne sapete dell'algoritmo di LinkedIn? Provate a rispondere mentre io introduco l'argomento e cerco di darvi qualche informazione e rendervelo un pochettino più amico. Cos'è un algoritmo? Non da un punto di vista tecnico, non sarei una persona attitolata, ma l'algoritmo è ciò che serve a un social network, a LinkedIn in questo caso, per dare rilevanza, o fatemi dire in modo un po' per cercare di dare rilevanza ai contenuti letti da ogni persona e anche, perché no, è inutile negarlo, per massimizzare i profitti della società, perché è mica una onlus, LinkedIn come qualunque altra piattaforma. Deve cercare di tenere insieme questi due elementi. E per alcuni di voi, sto vedendo un po' i risultati, ora interrompo la votazione, avete votato quasi tutti, quindi direi che condivido i risultati con voi. Insomma, quasi nessuno è all'oscuro dell'algoritmo, per molti però è un po' di difficile comprensione e pochi di voi invece riescono già a farci conti bravi e complimenti, perché appunto non è affatto scontato. Questo è il diagramma di flusso che sottostà l'algoritmo, non stiamo qua ad analizzarlo ora, non è un obiettivo di questo momento, è una cosa che per esempio approfondiamo molto nei corsi. Quello che vogliamo dire è che siccome esiste appunto un algoritmo, dobbiamo perlomeno preoccuparci di non averlo contro e poi magari farci soffiare un po' di vento nelle vele. Ma tenete conto di due aspetti che sono quelli che lo rendono talvolta un po' imperscrutabile. L'algoritmo evolve, evolve in senso generale, cioè vengono continuamente fatte delle migliorie, per fortuna, come è normale che sia, ed evolve in parte anche attraverso il machine learning, quindi direttamente su di noi e in base ai nostri movimenti. E c'è una verità che non vorremmo dover dire, ma è anche bello che ci sia, se abbiamo un buon coinvolgimento della nostra community, se trattiamo argomenti realmente interessanti e non facciamo dei macroscopici errori, spesso alcune regole che a volte qualcuno spaccia per verità assolute si sovvertono. Ed è quindi divertente vedere che contenuti, che magari fanno uno di questi macroerrori, considerati macroerrori per l'algoritmo, perché danno delle penalizzazioni, come i dunque esterni, le condivisioni interne di LinkedIn o argomenti controversi, in realtà quei post magari viaggiano alla grande. Perché? Perché hanno, probabilmente sono persone che hanno una forte community, hanno costruito dei format riconoscibili, e di conseguenza anche questi aspetti, che magari danno una piccola penalizzazione, vengono praticamente bypassati. Quindi, chi trova imperscrutabile l'algoritmo, lo capisco, perché in effetti talvolta è proprio così. A me oggi, in questo momento, in questo momento mi interessa darvi solo alcuni spunti. Maria Lidia mi chiede di stare un pochettino più sulle slide, ma gli argomenti sono tanti, e quindi cerco di tenere un certo ritmo. Comunque vi arriverà dieci minuti, mezz'ora dopo la fine, vi arriverà il link con la registrazione, quindi potrete riguardarla, mettere in pausa, farvi gli screenshot, o prendere ulteriori appunti, ma cercherò di rallentare il ritmo delle slide della parlata. I due aspetti che vorrei trattare brevemente con voi sono questi, il dwell time e le interazioni, due aspetti critici da conoscere e un po' da gestire, in qualche modo, a nostro vantaggio. Il dwell time è il tempo speso su un post da un visualizzatore, ed è una dinamica che LinkedIn ha introdotto nella sua evoluzione all'algoritmo per cercare di dare una maggiore rilevanza e bypassare anche alcuni problemi, diciamo, che l'algoritmo ha incontrato nella sua vita. A noi interessa quindi far sì che le persone spendano il loro tempo, più tempo possibile, sui nostri post, per dare un segnale all'algoritmo che l'argomento, anzi, scusate, il post è gradito e deve essere mostrato di più. Come fare ad aumentare il dwell time? Ho detto che non vi avrei dato dei segreti, delle ricette preconfezionate, ma di buon senso e ragionandoci insieme, è molto importante il gancio visivo, l'uncino visivo, cioè quello che si vede scorrendo il feed. Quindi attenzioni alle prime tre righe abbinate al visual. Se mettete un'immagine, una galleria, un pdf, si vedono tre righe in anteprima, quindi in quelle tre righe e o nel visual ci deve essere qualcosa che faccia fermare le persone per incominciare a far partire il contatore, diciamo così, del dwell time. Se fate post solo testuali, avete cinque righe che vengono mostrate, quindi c'è più spazio, è un pro e un contro a seconda di come lo andrete a utilizzare. Oggi su LinkedIn vediamo post di grande successo che vanno in due direzioni opposte. Cioè troviamo post brevissimi, proprio fatti di soli tre righe che hanno apparentemente un dwell time per forza di cose contenuto, perché si legge in un anno secondo, e post lunghissimi che ugualmente funzionano bene se scritti bene. Infatti i formati lunghi su LinkedIn possono funzionare. Ma qual è una strategia per far funzionare bene i formati corti? Far sì che ci siano molti commenti. Ed ora vedremo anche come, magari. I commenti, se interessanti e non solo con congratulazioni e complimenti, aumentano il dwell time perché le persone si fermeranno a leggere i commenti, soprattutto se rispondete. Importante è sempre rispondere ai commenti. e qui vedo che tra i partecipanti c'è qualcuno che questa dinamica la conosce molto bene, la usa molto bene e penso che la professora che sto pensando ha capito che sto pensando a lui. Quindi cercare di aumentare il tempo speso all'interno della piattaforma. L'altro elemento che ho citato prima è quello delle interazioni. Torno un secondo a questa slide qui del diagramma di flusso per notare insieme questo aspetto qua. È qui che l'algoritmo prende in considerazione come le persone interagiscono con il nostro post. Le interazioni sono fondamentali perché fanno capire che il contenuto, che l'argomento è di interesse del lettore. Tra l'altro se l'argomento vi sta interessando qui in alto nella barra in alto dove prima c'era segui la pagina LinkedIn apparsa una parolina algoritmo. Se cliccate lì vi si apre un articolo sul nostro blog che approfondisce proprio il tema dell'algoritmo. Quindi se volete potrete andare a approfondire. Per ora diciamo che sull'interazione ancora una volta incidono potentemente l'uncino visivo quindi le tre righe più visual o le cinque righe influisce l'orario e il giorno di pubblicazione. Attenzione però anche qua a essere troppo ortodossi. si dice i giorni centrali della settimana entro le nove è vero ma un buon post può funzionare molto bene anche in altre fasce orarie un po' di sperimentazione serve. Poi trucchettini da questo punto di vista gallerie d'immagine e pdf sfogliabili provocando un grande numero di clic funzionano molto bene perché LinkedIn conteggia come un clic di interazione positivo anche il secondo il terzo il quarto clic per sfogliare la galleria o il pdf e anche la presenza di call to action dirette quindi chiaramente tra poco ne parleremo in serie del call to action aiuta a generare più clic non per questo c'è stato a un certo punto un momento di grande popolarità di quei post che dicevano cercando di fare dei sondaggi lascia la reazione della pollice se pensi a del plazo se pensi b del cuore se pensi c è chiaramente proprio per innescare questo meccanismo ma non deve essere innescato con trucchettini perché altrimenti non andiamo molto lontano la nostra reputazione potrebbe come dire potrebbe soffrirne bene allora arriviamo alla terza a la terza a è l'azione e siamo proprio collegati a quello che diciamo fa la presenza di call to action l'azione è quella forza determinante che permette di produrre degli effetti dei risultati noi se spendiamo tempo a creare contenuti dovremmo sempre sapere cosa vorremmo i lettori facessero eppure ancora una volta se leggiamo un po' di post in giro su LinkedIn talvolta ci chiediamo ma perché questa persona ha pubblicato questo cosa voleva ottenere ecco siate più sofisticati di questo abbiate in mente che cosa volete ottenere talvolta è solo il confronto va benissimo anche quello altre volte c'è un'azione che si deve innescare io vorrei parlarvi di due tipi di azioni perché da una parte ci sono le azioni che vogliamo facciano le persone sui nostri post ma ci sono anche le azioni che siamo noi dover compiere ceriamo in un minuto stando sulle azioni che i nostri post dovrebbero portare a casa abbiamo detto prima sono importanti per l'algoritmo ma sono importanti anche per la vera essenza di LinkedIn in networking perché grazie alle interazioni soprattutto se sono commenti ma un'interazione è anche faccio un post visitano il mio profilo mi chiedono il collegamento o mi mandano un messaggio è con questo meccanismo che si amplia la rete si costruiscono relazioni e riusciamo a integrare LinkedIn in strategie di marketing più ampie perché non esiste solo LinkedIn anche se mi piacerebbe pensare questo ma siamo qua su uno strumento che non è LinkedIn non a caso non abbiamo fatto una live su LinkedIn no? dobbiamo integrare gli strumenti quindi le azioni che vogliamo compiano gli altri le otteniamo attraverso le call to action no? qui ne vedete alcune elencate quelle dirette no? invito a commentare a cliccare a collegarsi a seguire un hashtag a seguire una pagina a salvare un post a inviare il post eccetera poi ci sono le call to action indirette gli stimoli indiretti perché con un giusto argomento con l'approccio giusto con un formato corretto sarà più facile che le persone abbiano un'interazione positiva però qui quello su cui vorresto fermarmi sono in realtà le azioni che dobbiamo fare noi e questo è un lato magari per alcuni un pochettino più oscuro un po' ancora inesplorato noi possiamo cambiare le sorti dei nostri contenuti se facciamo certe cose prima della pubblicazione ma soprattutto con costanza non intendo dire solo un minuto prima di pubblicare il post noi dobbiamo essere membri attivi della community LinkedIn ci premia quando noi diamo e allora potremo ricevere quando siamo a due vie quando ci doniamo alla community quindi commentare i post di altri è una via anche per ottenere più visibilità e più commenti ai nostri post qualche settimana ho fatto questo post che alcuni di voi hanno commentato se non commenti godi solo a metà e lì abbiamo un po' discusso di questo tema un'altra cosa che premia di molto la visibilità dei contenuti è aggiungere nuove persone alla rete proattivamente facendo degli inviti non a valanga sempre con un senso anche perché anche questo forse non tutti lo sanno ma appena una persona è nella nostra rete c'è una sorta di piccolo breve periodo di grazia per cui non avendo uno storico delle interazioni reciproche l'algoritmo fa passare più facilmente i nostri contenuti sulle home page su newsfeed di questi nuovi arrivati nel nostro network un'altra cosa che premia è visitare i profili ma attenzione non sto dicendo di mettere lì un bot che vi visita 30 profili al giorno assolutamente questo è proprio un no sto dicendo però che nella vostra attività su linkedin anche solo per vedere se ci sono delle novità per trovare dei dettagli visitare i profili è una di quelle azioni che vi porta poi un beneficio sul breve e meglio termine e poi ci sono lezioni da fare dopo la pubblicazione cosa dovreste fare dovreste per esempio diffondere il post attraverso altri canali alcune volte vedete dei post che hanno a ridosso della pubblicazione dei numeri di interazioni elevatissime tolti i casi in cui dietro c'è un trucchetto che non voglio nemmeno nominare e che è vietato e tolti i casi dei super guru in altri casi c'è magari dietro un canale telegram che viene utilizzato per divulgare i contenuti viene collegato a una newsletter che parte subito dopo la pubblicazione o altri meccanismi virtuosi corretti positivi che potete sfruttare anche voi e per finire non dimenticatevi di rispondere ai commenti noi vogliamo scatenare conversazione positiva la risposta ai commenti è un fatto di educazione e di strategia ovviamente allora ci sono un po' di domande nel frattempo vedo che qualcuno ha trovato la funzione di modalità domande risposte per cui alla fine fra dieci minuti nemmeno saremo nella fase di domande quindi se avete delle domande un po' strutturate fatemene col tasto di domande risposte in modo che io possa poi ritrovarle facilmente mentre i commenti così più estemporanei insomma li vedo e magari insomma ne tengo conto ecco allora arriviamo all'ultima a quindi siamo quasi alla fine della trattazione più più così frontale in cui vi racconto ciò che mi sono preparato per oggi ed è il tema dell'analisi e anche qua ho una piccola un piccolo sondaggio che voglio proporvi quindi vediamo se arriva in tempo eccolo qua vi chiedo vi piace analizzare i dati dei post come la cavate con i numeri sia appunto a livello proprio così superficiale di simpatia verso questa attività sia anche magari di abilità che avete nel frattempo messo a punto perché andremo a parlare proprio di analytics di analisi e anche per questo vi faccio notare che qui in alto comparirà fra un secondo se arriva in tempo il bottone in alto si è trasformato in analytics e con questo bottone potrete andare a leggere un articolo sul nostro blog che approfondisce tantissimo il tema degli analytics quasi tutti voi avete risposto e quindi chiudo la votazione e condivido i risultati allora pare che la maggior parte di voi ami farlo ma non sa come farlo quindi bene andare a leggere l'articolo se volete che è molto completo io ed Elena molti conoscono la mia collega Elena abbiamo impiegato diversi giorni a mettere a punto questo articolo poi ci sono alcuni preferiscono la penitenza volevo farvi un po' sorridere alle 19 qualcuno non l'ha mai provato e poi ci sono i miei più cari amici quelli che adorano guardare i numeri e analizzare i risultati io sono uno di quelli quindi vi capisco assolutamente bene allora perché l'analisi è così importante perché solo ciò che si può misurare si può migliorare altrimenti si va a sensazioni talvolta ci si prende anche così deve essere un po' fortunati è vero che anche un maiale cieco prende una ghianda ogni tanto ma è veramente poi casualità però quando parliamo di analytics c'è un altro rischio nei confronti del quale vorrei un po' mettervi in guardia quello di porre troppa attenzione ai numeri e inseguire quindi le vanity matrix cioè i numeri fini a se stessi i numeri grandi qualcuno prima nei commenti ha parlato di numeri di visualizzazioni molto importanti bene per carità non sto dicendo che i numeri grandi sono il male ma non devono essere l'unica metrica se dentro i numeri non ci cerchiamo ovviamente poi anche una qualità purtroppo qui arrivano un po' i dolori perché le cose da analizzare sono numerose ma non sono tutte facilmente accessibili io qui vorrei focalizzarmi su tre cose tre aspetti che si possono analizzare che sono le visualizzazioni chiaramente la percentuale di interesse e il click through rate per le visualizzazioni fatemela sdoganare velocemente purtroppo linkedin le conta come numero di volte che un po' si è stato caricato negli newsfeed di qualcuno per almeno metà della superficie un terzo di secondo il che vuol dire che uno scroll veloce comunque viene magari addirittura fatto nemmeno guardando il cellulare viene considerato visualizzazione poi ci sono le visualizzazioni uniche che almeno sono le teste ma continuano ad avere questo problema diverso sono altri casi ma questa è la metrica tra l'altro adesso tradotto da linkedin come impressione la visualizzazione che fa un po' impressione questa traduzione fatemi dire soffermiamoci invece su due metriche che sono delle proporzioni quindi sono un pochettino più interessanti da analizzare che sono la percentuale di interesse e il click through rate che indicano più propriamente il tasso di coinvolgimento il primo e il tasso di click il secondo rispetto al numero di visualizzatori qua c'è un refuso scusate al numero delle visualizzazioni non dei visualizzatori non è fatto su le visualizzazioni uniche piccolo refuso nella presentazione purtroppo questi dati sono disponibili per le pagine che ovviamente hanno un tool di analytics molto approfondito ma non per i profili purtroppo c'è stata un'occasione mancata perché di recente linkedin ha rilasciato un nuovo tool di analisi o l'ha aggiornato per lo meno per chi attiva la modalità creatore di contenuti ma non contiene comunque queste metriche l'unica vera innovazione è quella di poter vedere dei dati globali per un periodo di tempo anziché i dati del singolo post quella è la vera innovazione ma manca ancora per il profilo l'accesso a dati di tasso di coinvolgimento o engagement rate e click through rate che però se amate quindi se siete tra quei pochi che al sondaggio hanno risposto che amano li potreste calcolare manualmente oppure potreste usare i software esterni in quell'articolo che vi ho citato poco fa che trovate ancora linkato in alto nella barra in alto analytics lo trovate citato se volete calcolarlo manualmente questa è la formuletta il numero dei consiglia più il numero dei commenti più il numero delle condivisioni diviso le visualizzazioni cioè se è un post che ha fatto tre consiglia tre commenti e quattro condivisioni quindi dieci interazioni e ha fatto mille visualizzazioni farò questa divisione quindi dieci diviso mille che fa perché io mi avventuro in queste cose live fa uno uno per cento aiutatemi con la matematica se qualcuno fa la divisione mi dica qual è il risultato mentre per il click through rate per i profili personali non possiamo farlo nemmeno manualmente perché non abbiamo il numero dei click ma qui l'idea che voglio darvi è usate degli url shortner quei servizi tipo magari conoscete bitly se ne volete uno professionale io suggerisco jot url anche di questo trovate nel nostro blog una scheda approfondita che vi permettono di contare quanti click un certo url che voi avete abbreviato ha ottenuto in questo modo potrete misurare quanti click un link che avete messo all'interno di un post o nei commenti di un post ha ottenuto è un po' laborioso ma per chi ama mi avete detto prima guardare gli analytics questa potrebbe essere una buona idea poi cosa farne di queste analytics fate delle valutazioni sul singolo post fatelo almeno dopo una settimana dalla pubblicazione non il giorno dopo fate delle valutazioni sull'andamento mensile ma però la guardate cioè a una settimana o un mese io suggerisco di essere solo osservatori tranne in rari casi e invece di utilizzare queste analisi per cambiare i vostri piani magari ogni tre mesi o ogni sei mesi perché bisogna andare un pochettino avanti sulla propria strategia prima di trarne delle conclusioni ed è infatti su questo che voglio concludere come fare a mettere in pratica non solo il tema degli analytics ma tutte le quattro A argomento algoritmo azione e analytics bisogna entrare in azione guarda caso riusiamo una delle quattro A un buon piano che mettete in pratica subito è sicuramente meglio di un piano magari migliore o perfetto che però viene avviato settimana prossima o fra un mese o fra un anno che diventa mai ma ricordatevi anche dovevo finire con qualche citazione qualche aforisma se no che presentazione è che e qui cito Abraham Lincoln deve arrivare il momento giusto ora vedi che strategia è il messaggio che voglio dare è che bisogna partire da un punto perseverare un po' e probabilmente all'inizio si sta scavando per poi creare la buona base per i propri risultati non bisogna demoralizzarsi se le cose non funzionano in una o due settimane chiaramente l'importante è sapere cosa si sta facendo e farlo per un periodo sufficiente di tempo altrimenti è un po' follia quella su una strada completamente inventata e senza una base strategica andare avanti per tre anni perché un giorno avverrà il mio momento no quello no ma con le idee chiare perseverare un po' sapendo che a un certo punto le cose possono incominciare a funzionare da dove partire? io vi suggerisco se volete provare partite da un paio di post a settimana che oggi è una quantità che può funzionare bene senza impegnare troppo non serve fare per forza tutti i giorni anzi in alcuni casi è sconsigliato ma una volta ogni sei mesi fare un post insomma non sareste qua ascoltare questo webinar no? preparati sempre con un po' in anticipo così non vi viene l'affanno poi vengono fuori delle robe orribili e andare avanti per almeno un paio di mesi come dicevamo poco fa questo potrebbe essere un piano da cui partire allora domande che sono arrivate io toglierei la presentazione mettiamo solo il mio faccione che vedo molto sgranato non so se è un problema solo mio o anche vostro spero solo mio e vediamo un po' le vostre domande senza filtro le metto in evidenza e non arriva in evidenza come mai modalità Q&A eccola qua e vediamo Federica le sole visualizzazioni senza reazioni vuol dire che è stato letto o che il lettore l'ha visto scrollando la pagina potrebbe essere che lo ha visto solo scrollando la pagina non abbiamo un'indicazione di quanto tempo hanno speso se però il numero delle visualizzazioni è fammi dire ampiamente superiore alla media è probabile che le persone ci abbiano speso del tempo lo abbiano cliccato magari per leggere tutto anche se non hanno lasciato delle reazioni perché magari non se la sentivano non c'era una call to action non sapevano cosa dire ma hanno speso del tempo altrimenti è difficile che ci possa essere un premio di visualizzazioni se non ci sono le interazioni non è stato nemmeno un tempo di permanenza sufficiente Maria Lidia per la CPA per i profili personali per il personal branding quali sono? chiedemi il collegamento chiedemi il collegamento segui il mio profilo attiva la campanella adesso che c'è anche la campanella va un po' spiegato come arrivarci ma potrebbero essere anche strumenti esterni anche per un personal brand che magari ha comunque una newsletter anche se non è un'azienda e quindi si può invitare magari a scriversi alla newsletter newsletter esterna LinkedIn o magari a scriversi alla newsletter di LinkedIn per esempio quindi ce ne possono essere diversi anche per i personal brand domanda di Vittorio ciao Vittorio che non manchi mai Twitter mi piace questa domanda sintetica risposta Elon Musk non mi pronuncio però proprio oggi durante un corso a un gruppo di dirigenti non ho potuto non osservare due stili e due storie di acquisizioni molto diverse LinkedIn società privata ma comprata da una delle Big Five nel 2016 per 26 miliardi di dollari all'ora e invece società pubblica che è Twitter comprata da un pazzo furioso cito Montemagno non sto insultando Elon Musk per 44 miliardi di dollari società quotata che finisce in mano fondamentalmente a un privato perché l'acquisizione è proprio di Elon Musk stessa io mi preoccuperei ma non uso Twitter quindi sono sereno Laura buonasera Alessandro esco un po' dal tema un mio cliente vuole aprirsi su un mercato estero ma non desidera che chi lo segue sul profilo italiano si trovi a leggere posti in lingua straniera c'è modo con un solo account o una sola pagina di segmentare le pubblicazioni per area geografica oppure bisogna aprire un secondo profilo su LinkedIn da quel paese sul LinkedIn del paese in questione allora con la pagina nessun problema si può segmentare l'audience purché ci siano almeno 300 follower in quella area geografica o che parlano quella lingua o si possono fare anche segmentazioni per funzione e per industria sul profilo personale non c'è via non si può fare la segmentazione si potrebbe lavorare sui fusi orari diversi se sono mercati su fusi orari diversi è un po' azzardato aprire un secondo profilo in realtà viola le condizioni di utilizzo di LinkedIn e quindi non è nemmeno quella una soluzione in realtà quindi è veramente una cosa molto difficile da gestire col profilo dell'azienda con la pagina aziendale invece tutto più semplice Danilo ciao in che proporzione consigli di produrre i contenuti in base alle quattro tipologie quanto divulgativo e quanto autoreferenziale allora va trovata una propria ricetta però l'ordine per me non era casuale ed era un po' anche di proporzione poteva essere un po' una piramide rovesciata io suggerisco soprattutto per chi fa un lavoro legato al know-how un lavoro consulenziale eccetera di lavorare principalmente con contenuti educativi poi con contenuti invece informativi qualche contenuto più di coinvolgimento e pochi pochi contenuti promozionali non ho mai visto una buona strategia funzionare al contrario ho visto strategie invece funzionare su una sola tipologia tra le prime due o le prime tre quindi contenuti profili che fanno solo contenuti educativi bam 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 noi facciamo quasi solo quello più qualche promozionale qualche coinvolgimento oppure profili che vanno alla grande solo con contenuti informativi di content curation una sorta di rassegna stampa ce ne sono anche di famosi in Italia quindi va trovata un po' una ricetta ma di sicuro non può mai essere il promozionale il primo ovviamente poi altra domanda da Maria Lidia ah ecco no era in realtà qualcun altro che si univa alla stessa esigenza chissà se lo vedrà sì ho visto e ho anche risposto quindi gli ho risposto Paola ciao Paola un'altra persona che mi segue sempre grazie per posti intendi anche gli articoli allora sì in parte perché quando si pubblica un articolo in realtà per lanciare l'articolo c'è anche automaticamente un post collegato gli articoli hanno vantaggi e svantaggi ora difficile resumerlo in un minuto di risposta ma diciamo che tra i vantaggi degli articoli c'è la funzionalità newsletter se non la conoscete farò un articolo sul nostro blog prossimamente lo svantaggio che è un po' folle ma tant'è è che quando si pubblica un post per lanciare l'articolo viene vissuto dall'algoritmo un po' come un link esterno anche se il link è assolutamente interno a linkedin e quindi talvolta quei post non funzionano particolarmente bene io suggerirei una strategia basata settimanalmente sui post e magari mensilmente sull'articolo c'è chi anche fa articoli molto più disfrequenti ma io non ho mai visto funzionare particolarmente bene tranne rarissimi casi una pubblicazione per esempio settimanale degli articoli oltre a essere un lavoro veramente pesante l'equilibrio sforzo risultato è discutibile Fabiana mi chiede se pubblicare ad app esterne penalizza non ufficialmente e non c'è nemmeno nessun riscontro empirico purché siano chiaramente piattaforme autorizzate quindi che hanno accesso alle API di LinkedIn come cito post speaker di cui noi siamo partner per l'Italia anche di quello trovate sul nostro blog un articolo di approfondimento ma anche i più internazionali HotSuite Buffer e tanti altri ancora Federica gli hashtag nel testo possono aiutare a ottenere più interazioni sì con qualche con qualche dubbio in realtà diciamo più visualizzazioni è difficile perché è raro che le persone arrivino a un post solo perché ha un hashtag ma può aiutare a far trovare a far apparire il post nella home page delle persone che sono interessate a quei temi se LinkedIn è riuscito chiaramente a a scoprirlo a livello invece di interazioni ci può essere qualche click di chi clicca sull'hashtag che in realtà è un vantaggio in quanto provoca interazione ma è uno svantaggio perché porta fuori verso una pagina che non è una propria landing page quindi questo è il motivo per cui si suggerisce di mettere gli hashtag alla fine in modo che se le persone li cliccano e quindi lasciano il post perlomeno non ho già letto tutto quanto poi se li mettete all'inizio non è un errore non c'è una penalizzazione ma potrebbe essere non troppo troppo furbo vi metto qui nella chat il link a un articolo sul nostro blog proprio sul funzionamento degli hashtag stiamo avendo una marea di domande e fra poco però dovremo chiudere quindi io vado proprio in ordine cronologico così nessuno potrà offendersi Danilo ti risulta che commentare tanto post di utenti con un ranking basso penalizzi il social selling index e qualcuno starà chiedendo ma che è il social selling index soprattutto alla voce interagisci con le persone giuste ho sperimentato diverse volte a me ha dato risultati inquietanti e quasi matematico brutto lato community management perché ti sporano interagire con i guru e non magari con altri bravi professionisti che però hanno meno visibilità allora Danilo mi dice una cosa che io non ho mai sperimentato di persona per qualcuno scommetto che non è nemmeno comprensibile quello che ha scritto Danilo non perché hai scritto male Danilo ma perché è un po' tecnico a me non è capitato ma se lo hai osservato mi fido poi di te mi fido particolarmente perché so che sei un asservatore attento però secondo me è un non problema perché se diventasse un problema vorrebbe dire che staremo troppo attenti alle vanity matrix e quindi commento solo i guru perché voglio il numero alto del social selling index se a me serve e mi fa piacere commentare un povero sfortunato che poi mi fa abbassare il social selling index chi se ne frega non saranno quei 3-5 punti in meno di social selling index che sono solo un numero penso che tu possa essere d'accordo altrimenti dimmelo e andiamo avanti nella discussione Laura sì c'è un 20% sul secondo che si compra per quello scrivetemi dopo l'acquisto del primo vi mandiamo il coupon per avere il 20% sul secondo quindi in pratica sul pacchetto totale un ulteriore 10 su questi prezzi già scontati con anche l'extra della consulenza con me quindi è insomma tutto in aggiunta e Simone dice se ha senso farli entrambi sì non c'è sovrapposizione se non leggermente sul tema della trattazione dei contenuti ma poi li decliniamo sul personale da una parte e sull'aziendale dall'altra alcuni elementi potrebbero essere leggermente ripetuti ma ripetita Juvent quando si tratta di contenuti nei due percorsi allora ok grazie grazie va bene grazie è una funzione di Sales Navigator bravi che ormai interagite tra voi uno risponde al commento dell'altro questo è community mi fate felici quando vedo che partono anche delle conversazioni all'interno all'interno della chat gli articoli performano meno esatto ho risposto prima alla domanda riguardo avete quindi anche probabilmente capito il motivo quindi Laura si deve avere 300 follower dentro all'area vanno bene anche se ottenuti con le sponsorizzazioni sicuramente sì la newsletter funziona bene per coinvolgere il pubblico rispetto ai post no le newsletter non hanno tanti commenti nella maggior parte dei casi ma funzionano bene per avere una migliore copertura perché le newsletter hanno questo meccanismo di notifica email e direttamente su LinkedIn che garantisce una buona copertura poi non è che garantisca un buon numero di visualizzazioni ma perlomeno le persone non si perdono il vostro contenuto perché gli arriva la notifica se hanno sottoscritto la newsletter ma non aumenta le interazioni allora ma il link per l'algoritmo è penalizzante puoi chiarire sì di base no se c'è qualcosa di più forte all'interno di quel post che può andare oltre questa penalizzazione altro giorno facendo un'odita a un cliente abbiamo visto che i post che nell'ultimo anno hanno performato meglio erano tutti con il link interno ci siamo domandati perché siamo andati a vedere i post erano tutti post fatti con galleria che invece è un grande plus post con contenuti molto utili di valore per il loro target erano in quel caso degli esempi di applicazioni in architettura del loro prodotto ma non erano promozionali erano belle immagini di qualità e belle da vedere utili da vedere e questo ha tranquillamente bypassato l'eventuale penalizzazione del link il mio suggerimento è evitate di fare solo post con link per esempio o solo post con video o solo post con carosello cioè a meno che non abbiate fatto i vostri test avete messo a punto un vostro formato che sapete funziona bene sperimentare le diverse tipologie aiuta aiuta per l'algoritmo e aiuta anche per l'utente perché tra i vostri collegamenti o follower ci sarà chi ama l'immagine chi ama il video chi non lo ama chi vuole il link di approfondimento e soddisfate un po' tutti i palati metterlo nei commenti può funzionare ci sono degli studi a riguardo che testimoniano che alla fine il click through rate resta più o meno lo stesso ma il numero delle visualizzazioni del post è più alto se nei commenti quindi aumentiamo la portata ma otteniamo più o meno lo stesso numero di click che significa che anche se lo nascondiamo nei commenti chi è interessato se lo va a trovare ma che un aumento di portata in realtà non significa per forza poi un aumento del numero dei click Paola mi fa una domanda sulle certificazioni dei nostri corsi scrivimi in privato e ti risolviamo questa cosa abbiamo cambiato dominio e quindi alcuni link alle certificazioni devono essere aggiornati c'era difficile aggiornare tutti avvisare tutti ma se mi scrivi mettiamo a posto per il tuo profilo questa cosa e l'ultima domanda che è arrivata e quindi l'ultima che rispondo visto che siamo ormai alla un'ora e un minuto e infatti molti sono andati vi saluto virtualmente ancora di Maria Lidia grazie sei la top performer di questa di questo webinar mettere l'immagine non andasse bene perché c'è una pessima anteprima cosa ne pensi? allora sì l'anteprima è un po' casuale ma basta governarla fare gli esperimenti e ritagliare le immagini in modo che performino meglio parliamo anche di quello nel corso su come ottimizzare l'anteprima delle immagini oppure un pdf sfogliabile tipo carosello insomma in effetti grazie buona serata e buon aperitivo buona cena visto l'orario ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti